Tragedia sfiorata questa mattina sulla strada provinciale cesanense che collega Mondolfo a Senigallia in località Sterpettine. È accaduto intorno alle 12 quando un trentenne di Marotta, a bordo di una Fiat Punto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto sul cavalcavia dell'autostrada A14, iniziando improvvisamente a sbandare mentre procedeva in direzione monte per poi invadere la corsia opposta dalla quale proveniva un camion che trasportava dei rottami. Il conducente del mezzo pesante, un quarantenne dell'Anconetano, ha fatto giusto in tempo a schivare il giovane sterzando verso il centro della carreggiata ed evitando l'impatto frontale con la Punto che ha terminato la sua corsa incastrandorsi tra il camion e il guardrail. Ad avere la peggio è stato il giovane di Marotta che ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato all'ospedale di Fano. Non è in pericolo di vita. Il conducente del camion è rimasto illeso. Sul posto la polizia locale di Mondolfo per i rilevi di legge ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. L'incidente ha causato disagi al traffico ed il tratto di strada è rimasto chiuso almeno per un'ora fino a quando non è stata liberata la carreggiata. L'incidente ha causato un'ora di 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 un'